E' stato molto bello quest'anno moderare i lavori del GDP off con i ragazzi perché li abbiamo coinvolti in alcune sfide che noi stiamo affrontando e lavorare con i giovani per noi è importante perché l'energia, le idee e la voglia che hanno di portare il loro contributo nella risoluzione delle sfide, nell'innovazione, nel modo in cui si può lavorare è molto bello. Direi largo ai giovani.